ok questa volta siamo nel centro pokemon per cui ora andiamo a fare la puntata 10 dei 20 anni pokemon ok ok siamo arrivati anche oggi siamo arrivati nel centro pokemon qua dal centro pokemon ora vi diciamo tutte le novità che ci sono di pokemon di vent'anni pokemon diciamo allora tramite dono segreto potete avere jaranki jaranki il pokemon qua non so se lo vedete bene ma lo vedete piccolo e poi se andate a game stop potete avere i tre pokemon tre pokemon che volano volatili i pokemon volatili vedete che volano tre pokemon leggendari che sono quelli li tramite codice dal game stop come ogni mese e adesso vi danno questi tre pokemon adesso vi lascio per i vent'anni poco questo poco eccolo qua poi andiamo sull'evoluzione di un pokemon urbasaur urbasaur è un pokemon piccolino con due liane e un fiore in mezzo ma poi si trasforma in un pokemon livaisaur che dicevano ma cosa che ha delle foglie sotto con sopra un fiore no livasaur da lì fa tutti i suoi colpi gli attacchi poi si trasforma da un altro pokemon che è venasaur venasaur dicevano ma come una palma sul corpo c'ha una palma all'incontrario con delle foglie e più sopra un fiore invece no da lì escono sempre i colpi uguali non ha colpi con le zampe con con le quattro zampe non ha colpi neanche con la bocca solamente da quello ma ora che abbiamo detto l'evoluzione andiamo avanti con la nostra passeggiata accanto la nostra passeggiata a che eravamo arrivati e siamo arrivati oggi a zafirandopoli zafirandopoli sabrina è la capopalestra sabrina è la capopalestra la capopalestra che dovete sconfiggere ma qua non è che c'è solo una palestra una palestra è quella autentica ma l'altra è quella non autentica la palestra non autentica e zafirandopoli zafirandopoli due palestre due palestre ufficiali e una non ufficiale per cui zafirandopoli è molto grande come città e qua vi daranno anche un altro pokemon per cui qua abbiamo anche per oggi finito la nostra passeggiata e ora vi dico un'altra novità allora pokemon sole e pokemon luna domani ci sarà faranno un video con tutte le novità vi faranno vedere un gameplay come è fatto tutto quanto e vi diranno qualcosa in più di pokemon sole e pokemon luna per cui scrivetelo sabato prossimo seguite il video di vent'anni pokemon n11 l'episodio 11 che ci sarà tutte le novità di pokemon sole e pokemon luna vi faremo vedere di tutto di tutto e di più su tutti i pokemon che faranno quelli che diranno che ci saranno dentro vi faremo vedere e anche un gameplay per cui sabato prossimo non andiamo a passeggiare tra per il vostro andando avanti nel gioco sempre se voi magari siete arrivati in un punto andiamo avanti pokemon sole e pokemon con blu rosso e giallo non andremo avanti nelle passeggiate per cui sabato prossimo sarà solamente su pokemon luna e pokemon sole parleremo solo di quello e qua dal centro pokemon vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao per sapere tutto di pokemon luna e pokemon sole alla prossima puntata ciao ciao